Saluto e buon venuto a ogni nuovo episodio. O Dio mi è stato molto pronto nel registro dell'episodio. Sì, spero che vi vedete il video. Vedete che c'è un problema. Sì, vedete il microfono, anche se non è più. Poi ci sono le mie lezioni. Le mie lezioni sono le mie lezioni. E ci sono i risultati. O Dio, è stato un bel giorno. Ho la mia lezione. Il mio amico e il collega Davide Storial Parmo per Zoom. Sì, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Ma cosa vuoi dire? Resto con noi. Con me lo dico con noi. Grazie. Saluto e buon venuto a ogni nuovo episodio. O fa medito. O Dio mi voglio leggere e meditare con voi sull'etero che ho preso. In laiaro 1982. E vi trovate l'altione in pagina. 4661. Citi il mio articolo, è vero, il mio lato articolo, sul campo di esperantista discutato. Per alcune cause, mi di non vero non nemmeno più. Parto preno e discutato. Niente in i congressi. Niente in le газette. In Cracovo mi tutte certe detenosi min. Di sia parto preno e discutere. Se c'è chi chi è contro la mia opinione, aveva. Plena po' contro la battaglia per tutti i forti. Nettimante che mi polemico contro lì. Ecco per uno voto. Sed. Giusto per quello che mi intenzio più discutere, mi ora, l'ultima forza, chiaro la mia opinione. Vedo. Citi il tiro mi convinti, che è il momento in cui mi dovrei pausare e cercare i commenti che ho avuto il vero. Da mi più parto preno sentito, non per malagrablei discutere, ma, semplicemente per il fatto, che è il momento di discutere ed è il momento di fare altre cose. E questo è il mio momento effettivo. dopo un anno di cui ho meditato, mi credo che mi dovrei chiarire la mia opinione e l'eventuale in una nuova avventura esperantista. mi sono molto felice per il risultato di questa avventura, perché, sì, questo è uno dei miei più scattati, attenti, di questa straordinaria, perché, in questo tempo, nel 2012, la pandemia. E noi ancora non siamo fuori, D.G. in questo momento, noi completiamo un turno di pagina e cominciamo il nuovo capitolo del mondo vivo, questo è una bella domanda. In questo tempo, ho avuto bellissime cose, alcuni esempi di esempio. l'italiano registrato, fin a fine, ha conosciuto la scrittura dell'italiano signolingua, e questo, fin a fine, mi dicevo, metto il mio origine del mondo. E' il stesso livello che mi adopto il mondo, perché, in Niederlanda, la signolingua di Niederlanda è già conosciuta giusto durante il giorno. Allora, noi restiamo per pieni. Prima un momento. in questo tempo, ci faremo passi per te, quindi, giusto per te, mi voglio invitarvi a voi, come dire, per tutti gli aspetti della vita, e saluti a voi ancora a prossimamente. Grazie per te, attenzione. Dice morgo, e a tutti, per te, senza fine. A presto. A presto. A presto. A presto.